Promuovere la salvaguardia delle razze animali autoctone presenti sul territorio regionale a partire dalla mucca podolica è l'obiettivo del bando pubblicato sul portale della Regione Calabria. Si tratta, commenta l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, di una misura tesa a salvaguardare il patrimonio zootecnico regionale minacciato dall'estinzione. Si tratta in particolare della razza podolica per la specie bovina, delle nicastrese rustica di Calabria e Aspromontana per quanto attiene la specie caprina, della apulo calabrese con riferimento ai suini, delle razze ragosana e di Martina Franca in relazione agli equidi e della gentile di Puglia per la specie ovina. Gli aiuti finalizzati a contenere le riduzioni della redditività causata da maggiori costi o da minore ricavi sono riservati ad allevatori in forma singola o associata o ad altri soggetti pubblici e privati titolari di strutture attive in Calabria, iscritti nell'anagrafe delle aziende agricole. La dotazione finanziaria è pari a 10 milioni per il quadriennio, dunque a 2 milioni e mezzo per l'anno in corso. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, mediante il portale Sian entro il 31 luglio 2024, appena di riduzione dell'importo del premio.